C'è un'occasione per le ragazze? No, non credo Signore e signori, direi di fare un forte applauso a tutto lo staff del Safari Club per favore Grazie per essere qui questa sera noi siamo la Friday Night come si può leggere benissimo da lì e spero che la nostra musica vi stia piacendo e... e comunque lui è Robert Pagano che è di Chicago lui lo stava cercando di dire non c'è di profondo che vieno ma è un buon termine che sia è che si nasce a lui domani però va bene così no 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti